Eccoci qui ragazzi, buona giornata, come state di nuovo? Buongiorno, questa mattina un focus su Adli e Pobega. In tanti mi avete chiesto un approfondimento sulla situazione e quindi ci tengo a lo vediato e ve lo linko al termine di questo video. Vi ricordo come sempre all'inizio di lasciare un bel like qui sotto e di iscrivervi qui, attivate la campanella. Lasciate un like, non vi costa nulla, però è importante così raggiungiamo sempre più persone e la community arriva presto a 100.000 iscritti. Vi invito anche a scaricare entro oggi a mezzanotte l'app di numero 10, qui sotto c'è il link. L'app numero 1 con tutte le esclusive live calciomercato è gratuita, ci siamo anche noi, ci saremo anche con delle live dedicate a chi si iscrive appunto da Milanello per rispondere alle vostre domande. Non solo, tra quelli che la scaricano oggi a mezzanotte uno di voi si porta a casa due biglietti per la gara di dopodomani di San Siro, primo anello arancio contro il Bologna. Affrettatevi, ma ci sono tanti premi se non vincete questa volta, anche se l'avete già scaricata, anche per le prossime volte. Quindi un motivo in più, fatelo a scaricare amici e parenti. Oggi è un giurato importante perché respiriamo un po' aria di Champions, oggi alle 18 c'è il sorteggio. Dopo il sorteggio faremo un video, dedicheremo un video, magari un commento post oppure una live reaction, vediamo insieme che cosa si può fare. Ricordiamo che siamo in prima fascia, quindi non prenderemo sicuramente Bayern Monaco, Manchester City, Real, PSG, Ajax, Porto, Eintracht. Però attenzione alla seconda fascia perché ci sono squadre di prima fascia, scusate il gioco di parole, perché c'è il Liverpool, il Chelsea, il Barça, che possiamo pescare, la Juventus, l'Atletico Madrid che abbiamo pescato lo scorso anno appunto come il Liverpool, il Sevilla, l'Ipsia e Tottenham. Quindi sono quasi tutte squadre di primissima fascia. Andiamo in terza dove c'è Dortmund, attenzione, Salzburgo, attenzione, Shakhtar, un po' meno performante rispetto comunque a una tradizione che la vede in Champions da diversi anni. Inter-Napoli che non possiamo pescare. Sporting, Bayern Leverkusen e Benfica. In quarta fascia, Marsiglia, Bruges, Celtic, Victoria, Maccabi, Rangers, Copenhagen, Dinamo, Zagabria. L'obiettivo dunque è cercare di pescare una seconda fascia che non sia primissima fascia. L'obiettivo ovviamente è passare il girone. 32 squadre, passare il girone e provare ad arrivare più in fondo possibile. Allora, capitolo mercato, più tardi un focus su Leao. Stiamo raccogliendo informazioni, una secondo me molto interessante che nessuno ha ancora raccontato. In questo caso però andiamo su videomercato per quanto riguarda difensore e centrocampista. Si sta surriscaldando la pista difensore. Su centrocampista siamo sempre un po' in attesa di sviluppi su Onana. Ma attenzione, perché c'è un'offerta importante per Paquetà che il Lione ha rifiutato. È un'offerta di 40 milioni che il Lione vorrebbe superiore e arrivare a 50 milioni di euro. Il Milan ricordiamo che è al 15% della futura rivendita, quindi, anzi scusate, ha rifiutato quasi 50 milioni dal West Ham e ne vuole 60. Se si arriva a 60, il Milan avrebbe 9 milioni di euro. La sensazione è che per il centrocampista si stia un po' teporeggiando per capire se davvero arriveranno soldi in più da Paquetà che a quel punto andranno investiti ulteriormente su questo mercato e non sul bilancio. Elliot mi raccomando. Appunto, Moyes ha detto che hanno fatto un'offerta, che sperano possa arrivare, però il Lione al momento ha detto no, ha quasi 50 milioni di euro, ne vuole 60. Magari si guida 55, sono comunque quasi 9 milioni di euro che entrerebbero nelle casse del Milan. Su Onana ieri, giornata interlocutoria. Milan che aveva fatto sapere farà l'offerta, non l'ha fatta l'offerta. Vediamo oggi se ci sono degli sviluppi. Oggi è una giornata importante non solo per la Champions, ma anche perché in sede di Champions ci sono ulteriori colloqui, contatti tra i vari dirigenti. E tra una settimana, ricordiamo che chiude il mercato, proprio tra una settimana. Quindi, certe operazioni o le fai adesso, quelle più importanti o non le fai. Da qui in poi ci saranno tante occasioni. Vi dicevo, ci saranno tante proposte, idee, nomi nuovi. Ne abbiamo sentiti nomi nuovi tutte le state, ma in questa settimana sicuramente sono quelli più caldi. Ci spostiamo in difesa dove, su Tanganga, secondo me è difficile trovare un accordo con il Tottenham che ha un'offerta da 20 milioni di pounds e quindi a quel punto non credo che possa concederlo in prestito al Milan. Il giocatore al momento sta aspettando e non vuole il Nottingham. Dall'altra parte, c'è un ritorno di fiamma e un nome nuovo, secondo me, davvero, davvero, davvero interessante. Per due motivi che adesso vado a elencare. Prima il ritorno di fiamma è quello con Malik Tiav, dello Schalke 04, che abbiamo provato a prendere già a gennaio, ricorderete. Ha 21 anni, è tedesco, è alto 1,91. Ha un contatto in scadenza con lo Schalke nel 2024. Ha già iniziato la stagione in Bundesliga, l'anno scorso era nella Serie B del campionato tedesco. Ha fatto 31 presenze e 2 gol. Quest'anno è arrivato in Bundesliga, ha già giocato 2 partite. Giocatore che ha fatto il difesore centrale 91 volte con 5 gol. Il mediano 17 volte con 2 gol e 2 assist. Il terzino sia a sinistra che a destra. Piaceva al Milan, questo non è una sorpresa visto che lo voleva prendere a gennaio, ma non si era trovato l'accordo con lo Schalke. 8 presenze e 2 gol nell'Under 21 tedesca. È un giocatore che può crescere, può crescere molto e imporsi ad altissimi livelli. È un ritorno di fiamma, ma il nome nuovo da attenzionare. In fatto appunto dicevamo di Tiav che ha alto 1 91, molto forte fisicamente, educato anche con i piedi, volevo impostare dal basso. Ma è il nome nuovo che mi stuzzica parecchio anche perché piace all'Inter. L'Inter lo ha chiesto, l'Inter prova a prenderlo. E se lo soffiamo all'Inter, siccome facciamo una cosa buona, a quel punto l'Inter prenderebbe a Cerbi che ha 34 anni, lo ricordiamo. Il nome è quello di Trevo, Shalobah, 23 anni, inglese, alto 1 90, contatto di scadenza con i Cessi 2026. Giocatore che adesso vi rappresento meglio. Lui ha tre presenze nell'Under 21 inglese. Andiamo appunto ad analizzare il profilo di questo giocatore che è molto d'utile. Il secondo motivo, oltre che perché lo soffriamo all'Inter, è perché lui può fare anche il mediano a centrocampo. Con anche risultati buoni. Ad esempio con Sarri giocava lì, poi è stato arretrato, lui ha fatto il difensore centrale 100 volte, 9 gol e 6 assist. Anche il vizio del gol. Poi ha fatto, scusate che mi sia aperta la pubblicità, lui ha poi ha fatto il mediano 86 volte con 3 gole e 2 assist. Il terzino destro e il sinistro è molto duttile. Quest'anno non ha ancora giocato nel Chelsea, non rientra nei piani. L'anno scorso ha fatto 20 presenze e 3 gole e 1 assist in Premier League. Con anche 3 presenze e 1 gol in Champions League. L'anno prima era nel Lorient e aveva fatto 29 presenze, 2 gole e 2 assist in Ligue 1. Giocatore che ha già esperienza, nonostante la giovanità, ripeto, ha 23 anni, appena compiuti. E sono andato a vedermi un po' in percentile le sue caratteristiche, o meglio i suoi numeri. Lui è uno bravo, secondo me è bravo. Allora, tiri totali, confrontandolo con i 5 pari ruolo dei principali, con i 5 campionati principali europei per i pari ruolo. Lui è considerato difensore, ma ha giocato anche avanti. Assistant di 90%, tiri totali 74%, passaggi riusciti 94%, quindi vuol dire che è a livelli altissimi. Dribbling 97%, tocchi in attacco 32%, anzi no, scusate, tocchi in totale 32%, un po' basso. Take 83%, Inter 7% 53% nella media, blocchi 11%, è molto basso questo dato, e salvataggi 56%. Vi faccio vedere anche la mappa di colore, perché lui nell'ultima stagione è stato utilizzato come braccetto di destra. Guardate, infatti ha giocato prevalentemente di tant'è che l'Inter lo vorrebbe prendere proprio per la sua difesa 3. È un giocatore però molto duttile, che secondo me rappresenterebbe un bel colpo per il Milan. Trevo Chalobà, che vado a vedere anche i duelli vinti, li vedo con voi live. 61% di duelli vinti, a terra 65%, aeri 54%, due cartellini gialli, zero rossi, sappiamo che chi arriva dalla Premier tendenzialmente riesce a imporsi sempre molto bene. E lui è uno fisico, veloce, ben strutturato fisicamente, molto versatile, sa gestire bene la palla, dicevamo che non va in difetto quando ha la palla tra i piedi. E' bravo anche nel passaggio, visto che abbiamo visto anche una percentuale molto alta. Anche il vizio del gol, Nathaniel Chalobà, nato di Sierra Leone, ha autoralizzato poi in inglese. Ricordiamo che, scusate non Nathaniel, il nome mi pare che sia, allora andiamo a vederlo, scusate perché mi... Trevo, Trevo, Chalobà, ecco qui, e andate a vedere poi le skills. E' un giocatore molto fisico, quando ti prendi il giocatore della Premier, insomma, tendenzialmente fai bene. E viene considerato anche un leader, a me piace, a me piace, rispetto a Tiav, rispetto a Tanganga, secondo me lui è l'operazione top, anche perché l'occorrenza lo mette in mezzo al campo e lo fa con grande dignità il ruolo. Quindi, se lo soffiamo all'Inter, perché no? Io incrocio le dita, ragazzi. Ditemi che cosa ne pensate, più tardi un altro aggiornamento. Vi rimando al video di oggi su Adriepo Vega, lasciate un bel like, iscrivetevi qui. Questa maglietta spero la possiate prendere anche voi, se vi va su milanello.com c'è il link, la maglietta ufficiale della nostra community, che potete indossare quando vedete il Milan, quando andate in giro a fare la spesa allo stadio. Scaricate l'app DDS, consiglio da buon amico. Tra quelli che la scaricano, uno di voi si porta a casa oggi due biglietti per la gara di dopodomani, prima nell'orancio, un trattamento VIP di Milan-Bologna. Non solo, perché poi da domani assegniamo ancora maglie, eccetera, eccetera, tanti premi. Vale la pena di scaricare, di far scaricare anche papà, mamma, fratello, sorella. Un abbraccio, a dopo.